C'è soddisfazione dopo l'apertura mostrata dal governo sul tema super bonus 110%, lo stesso che nel periodo post-covid ha contribuito ad un notevole rialzo del PIL, a far tremare aziende e lavoratori l'alt del governo Meloni alle operazioni di acquisto da parte dei crediti d'imposta dalle banche. Una stima di Anciabruzzo parla di circa 1000 imprese in difficoltà e circa 6500 persone tra addetti e indotto a rischio posto di lavoro. Non solo, il rischio arriverebbe poi dalla possibile nascita di contenziosi con i condomini. Le notizie sono abbastanza buone nel senso di un'apertura per il disincaglio dei crediti e per tutto ciò che è in pancia alle imprese e per tutti i lavori in itinere. Però adesso noi quello che chiediamo allo Stato centrale è quello di andare veloci perché se si aspetta gli altri due mesi di conversione per la legge per sistemare queste cose, ahimè, forse non facciamo in tempo. La questione Superbonus ha agitato anche le sigle sindacali. CGL e Will vanno verso una mobilitazione, mentre la CIS non è d'accordo. È naturale che se le cose persistano in questa maniera, forse scendere in piazza è la soluzione, ahimè, finale, ma è la soluzione che rimane a chi lavora. In sostanza, il governo ha dato apertura e rassicurazioni per i crediti pregressi, anche attraverso l'utilizzo degli F24. Ci sono da limare ancora dettagli sulla possibilità di consentire ancora lo sconto in fattura per alcune fasce di reddito per gli incapienti. Il presidente di Ancia Abruzzo, Antonio Dintino, oltre a chiedere chiarezza sui bonus acquisti, spera che venga fatta luce sul tema della ricostruzione post-sisma. Tutte le aree terremotate, anche queste oggi in stand-by, perché con una legge così un po' raffazzonata, un po' non chiara, eccetera, anche lì ci sono migliaia e migliaia di cantieri ancora fermi, ancora in stand-by, che non riescono a partire. L'importante è che ci sia una legge strutturale, perché senza incettivi, i traguardi che ci impone l'Europa, non riusciremo mai, mai, mai ad arrivarci. E poi sono problemi, perché l'Europa ci sanziona e ci sanziona per miliardi di euro.